Salve, oggi ho intenzione di lanciare una sfida a tutti i miei haters, stalkers e soprattutto dislikeatori seriali, perché veramente io gli sfido, se hanno il coraggio, a mettere dislike a tutti i miei video e non soltanto, ma li sfido pure a condividere i miei video fra tutti i loro amici e compagni di dislike, in modo che possano commentarli e dargli dislike a loro volta, vediamo se hanno il coraggio di fare una cosa del genere. E invece a tutti voi che mi seguite, che siete miei amici e amiche, io vi dico per favore, per aiutarmi a raggiungere le monetizzazioni, di mettere like a tutti i miei video e poi vediamo di commentarli e di condividerli se potete, in modo che mi aiutate a raggiungere un maggiore successo e quindi io sto utilizzando questo video, come voi tutti potete vedere, che è un mio vecchio video perché purtroppo non ho la macchina del tempo e non mi sono ringiovanito di colpo e lo vedete, forza e coraggio, siccome questa settimana non ho potuto filmarmi, allora sono andato nei miei archivi San Ten Chan, sto cercando di seguire il ritmo del video, ma non ci riesco perché sto registrando la voce con un cellulare Nokia Asha 302 preistorico. Però ecco, come potete vedere, a me mi piace molto leggere e vediamo un po', neanche io so come è fatto questo video, ah ecco qua c'ho della mia corrispondenza che mi scriveva una mia amica dal Giappone, ma ha scritto tantissime lettere fino all'anno 2012, ma questa non è una cosa che del resto vi possa fregare, allora mi raccomando, se volete che io vi lega in un futuro in un mio video le lettere che questa amica mia mi ha scritto perché le mie lettere se le tenute lei e poi vedete che nello schermo del mio computer, io gli facevo vedere perché questo era un video che gli avevo mandato a questa mia amica giapponese in bassa risoluzione, non so come verrà editato, avevo messo nello save screen le mie vecchie foto che vanno in scorrimento nello schermo, mentre io gli parlavo, allora se voi volete che io vi legga le lettere che mi ha scritto questa mia amica perché le mie sono rimaste in suo possesso, allora mi raccomando commentate molto questo video e condividetelo, poi questa settimana sono successe tante cose molto interessanti, mentre voi mi potrete apprezzare che io continuo a parlare vestito con il karatenghi nero perché io in quegli anni praticavo ninjutsu e mi avevano dato la cintura di secondo grado che comunque nella bulginkan dojo non è gialla ma il nono kyu è verde, se non mi sbaglio, si verde, allora sono successe tante cose dall'ultima volta che ho fatto un video, video che ho fatto al volo perché è morto l'ex presidente e senatore della repubblica argentina della repubblica federale argentina carlos saul menem e allora ho fatto un video tributo che è stato molto contestato da moltissimi argentini per il mondo perché considerano che è stato un presidente che ha rovinato il paese ma io ho voluto seguire l'attualità quindi io non ho colpa, poi che altro dire è che io ultimamente sto riprendendo a vedere i video di tutte e tutti voi ma succede che non tutti mi ricambiano e io sono molto arrabbiato comunque devo dire che il percentuale di quanti mi seguono è aumentato degli iscritti ed è diminuito quelli che mi seguono che non sono iscritti allora qua vi leggerò prossimamente le lettere se voi condividerete molto questo video e di nuovo vi rilancio la sfida ai dislocatori mi raccomando mettete dislike a tutti i miei video ciao e arrivederci mi raccomando e quindi a presto adesso devo tagliare il video perché sennò si fa troppo pesante ciao e grazie di avermi seguito perché mi sto ripetendo allora mi raccomando haters mettete quanti più dislike potete a tutti i miei video se ne avete il coraggio e non soltanto a qualcuno ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti